Il Tempo che trova, di Pierluigi Lanfranchi, è un libro surreale, eppure tremendamente reale. È il tempo che trova l'uomo, la donna, i figli, la vita, le cose, la storia, i miti che dalla loro lontananza illuminano il presente, il futuro, il passare della vita. In questo libro storie raccontate in versi o in prosa poetica, con una lingua esatta, evocativa, entrano tutti i sogni possibili. L'oniricità del pensiero cosparge spesso i momenti esperienziali. Il tempo passa, il tempo si ferma, salta anche la relatività, il poeta spazia dai miti alla quotidianità, situazioni tutte filtrate dal sogno che può essere incubo o elegia. La geografia, lo spazio, le città, Parigi, Vilnius, non sono solo dimensioni fisiche, sono anche ipotesi di tempo. E se il tempo non è misurabile, sono l'uomo, o la donna, o le cose, ad essere tangibili come ipotesi di vita, ma mai come certezze, dall'introduzione di Ottavio Rossani.